ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodione dedicato ai vostri orologi ed eccoci qua con un'altra puntata della reaction ai vostri video cioè quella rubrica che prevede che voi mandiate i video con i vostri orologi e io li pubblico commentandoli assieme a voi simpatica rubrica nella quale si possono scoprire delle piccole chicche no spesso si vedono orologi visti e rivisti si scopre anche che la maggior parte di noi ha sempre gli stessi orologi ma questo non è necessariamente un male però ogni tanto si scoprono degli orologi mai visti o poco considerati e che vengono invece presi in considerazione dagli appassionati di un certo tipo a volte abbiamo visto anche delle pendole oppure degli orologi da tasca oppure dei marchi strani particolari poi io non sempre sono in grado di riconoscere un marchio e definirlo come buono cattivo medio non è che sono onnisciente non è che so che so tutto sono come voi sono come voi come partecipare lo sapete in orizzontale il video mi raccomando sette minuti bello conciso con qualcosa da dire un messaggio dovete veicolare un messaggio no cercate di fare quello poi detto questo invece vi voglio ricordare il quinto watch meeting il raduno del canale ci incontreremo tutti insieme appassionatamente domenica 12 maggio alle ore 15 presso la gioielleria pasquale domenici di viareggio il raduno del canale ci incontriamo tra appassionati parliamo di orologi guardiamo gli orologi che abbiamo al polso spesso le persone portano anche orologi in tasca da mostrare agli altri per vedere per commentare per capire per domandare insomma è una passione che ci accomuna per cui possiamo utilizzare questo luogo e questo momento per incontrarci tutti assieme chiaramente poi è possibile entrare dentro al negozio provare gli orologi tanto il buon giacomo è lì e li mette a disposizione a tutti nel casino che c'è figuriamoci se qualcuno si deve vergognare di provare un orologio e poi non comprarlo no perché a volte la remora è questa entrare in un negozio chiedere di provare per il gusto di provarlo poi dopo dire rivederci non mi interessa invece lì in questa situazione potete fare quello che volete ci saranno poi vulcain longin oris orologi calamai tutti i marchi rinomati che saranno presenti con un rappresentante o più a disposizione vostra e con delle novità con delle particolarità c'è anche umberto pellizzari il noto apneista è uomo di spettacolo insomma ci divertiremo un pomeriggio all'insegna dell'orologeria dai domenica 12 maggio alle ore 15 io vi aspetto ci faccio conto e mi raccomando detto questo vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi questo bellissimo mido ocean star gmt detto shark lo squalo per via di questi suoi indici a denti accuminati come fosse uno squalo e poi anche magari per il blu il blu che ricorda il mare io ci ho messo questo nato nonostante il suo bracciale con quelli segmenti piccolini sia veramente bello tutto satinato io ho preferito utilizzare questo perché lo vedo già più estivo mi preparo già alla stagione quindi e poi c'è te lo vedi così dici ma che 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 modello è abbastanza originale no riconoscibile da ora detto questo non giriamo la camera dobbiamo guardare il video quindi semplicemente c'è la spazia la spazia barratrice che è una cosa la barra spaziatrice pronta a subire i colpi e io glieli do volentieri e poi guardiamo il video dai guardiamo il video vai vai ciao super davide dal mauro di jesolo ciao saluto e un caloroso abbraccio sei il numero uno ti presento tre orologi quarzoni e tre orologi automatici bravo vai allora vorrei anche che tu mi dessi eventualmente una ciofeca perché anche quelle sono ben gradite ti presento il primo orologio che è un fashion watches come dici tu ed è praticamente un dolce gabbana con il cinturino in pelle ed è praticamente col quadrante nero e con il dattario con i giorni della settimana questo l'ho indossato una vita intera bravo però tu mi hai trasmesso la passione degli orologi e quindi ho deciso di passare ad altro che strano però qua sicuramente mi darai una ciofeca che è un fossile con due numeri romani che a te proprio non ti piacciono sono gradite anche le ciofeche però mi piace molto il cinturino che è un verde molto particolare ha capito e bene passiamo ad altro quindi prendi una ciofeca perché via del cinturino i numeri romani che a me non piacciono tanto la verità è che a me i numeri romani mi ricordano veramente queste ciofeche qua non so come mai non so perché spiegatemelo voi io non ci riesco ad arrivare da solo quando vedo tutti questi numeri romani messi sul quadrante mi vengono in mente questi orologi da centro commerciale fatti tanto così tanto per per vendere capito li associo proprio nel mio cervelletto qua dietro quello piccolino così no perché invece quello davanti è grosso nel cervelletto associo i numeri romani agli orologi chip che poi non è così non è così però scusatemi qui abbiamo un di uno milano che a me questo design non mi fa letteralmente impazzire perché mi piace il design adesso tu puoi dire no vabbè non ti piacciono i design e questo orologio può dire la sua secondo me questo orologio veramente dice la sua anche questo è al quarzo questo qua non dice non era della ciofeca no per l'amor del cielo è un design visto e rivisto c'è se te vai sui portali maggiori di orologeria c'è nessuno a bizzeffe di orologi fatti così c'era veramente stufato cioè veramente c'è di qualsiasi marchio da 10 20 30 40 50 euro fatti così fatti così cioè non è veramente banalità al stato puro poi non mi piace l'azienda non mi piace di uno milano non mi piace il marketing che fanno veramente molto fashion molto votato alla alla vendita proprio abbinare con un vestito è capito poi non sono nemmeno orologi di pregio sono orologi economici no eppure si pongono come fossero il non plus ultra della fashion week di milano già per prendere il nome di uno milano non mi piacciono non mi piace proprio il marchio l'azienda il marketing e anche gli orologi questo design qua poi abbiamo un automatico che non è assolutamente un rolex ci tengo a dirlo ma è un assemblato con movimento miota 21 e qua puoi darci benissimo una ciofecca con la ghiera monodirezionale ok che comunque all'asco però era nel cassetto di mia mamma gli hanno regalato io lo tengo così giusto perché ho un orologio e mi piace la claspe diversa da rolex e qui è un bel pezzo questo perché è un secco 81 40 61 19 84 30 scusami ed è bellissimo questo veramente mi fa impazzire e mi sono innamorato di questo modello qua che è un vintage è un secco 5 però ripeto è del 1979 cioè veramente è favoloso e quindi lo tengo perché mi fa impazzire c'è proprio fatto per me piace a me piace è bravo l'ultimo modello ti faccio vedere questo zenith stellina vintage del 1940 in 20 oro micron che è praticamente una spolverata sopra l'orologio e questo orologio qui apparteneva a mio papà l'ho fatto revisionare l'ho fatto ricondizionare e l'ho deciso di tenerlo perché ci sono molto affezionato bene questa è la mia collezione di orologi sono pochi ma migliorerò grazie delle tue ciofeche e del tuo top se verrà fuori grandissimo ciao davide ciao non è che sia simpatico che mi strappi un sorriso perché il top non sia allo zenith lo poteva dare un top pino si poteva dare però non è che si danno così facilmente che si elargiscono destra sinistra e top insomma di tutta questa baradana diciamo frusagli e si salvano il secco 5 degli anni settanta i due vintage e lo zenith che era di tuono cioè si è comprato delle ciofeche fino a ora no io sento che lo spirito è quello giusto propositivo per andare a migliorare no che migliorare non significa avere orologi costosi spendere soldoni significa avere un minimo di criterio nella scelta e non basarsi su quello che si vede clic compro clic compro io qualsiasi cosa io devo acquistare no ma che fosse un aspirapolvere o che fosse una macchina per l'amore la macchina costa anche di più qualsiasi cosa io prima mi informo cioè mi informo ma cerco di informarmi il più possibile cioè di tutte le varie versioni e gli optional le cose oppure la potenza di aspirazione il tempi di ricaccio tutte queste cose mi informo mi informo veramente e poi dopo decido cosa acquistare poi posso anche sbagliare ma perlomeno mi sono informato cioè un po di energia un po di risorse ce l'ho messa nel spendere del tempo di informarmi a cercare di capire no poi tratto su tutte cose che ti rimangono nel bagagliaio culturale no quindi la prima cosa a fare cercate di informarvi non dico che il mio canale sia la luce la fonte di informazione primaria c'è pieno di risorse su internet no quindi ma questo orologio qua andiamo a vedere i pareri vai a vedere i pareri delle persone anche sui forum che sono la manna i forum perché ci sono informazioni che rimangono lì per decenni quindi è tutto scritto scritto nero su bianco e signor google te le trova no quindi informatevi prima di acquistare se no fate la fine dell'amico qua che poverino sarà anche allegro nella vita ma mi sembra un po svantaggiato nella scelta degli orologi prossimo video ciao davide sono da Livorno e ti volevo ringraziare per il tuo canale che mi ha fatto conoscere tantissimi orologi bravo ti racconto la mia storia cominciando con tre casio questi due sono i due orologi di infanzia casio shock di fino anni 80 regalo di comunione che era veramente abnorme a mio polso a dieci anni ci ho comprato questo rivestimento qui esterno che era andato distrutto perso poi casio a w500 degli anni 90 con cassa da 41 mm con funzioni da velisti questi due si utilizzano alla partenza delle legate perché ragazzo facevo le legate in barca a vela probabilmente la prima passione che ho avuto per gli orologi ricordo la fissazione di questo riflesso bombato del vetro aveva cristalli danneggiati ho comprato praticamente un altro orologio ho fatto un accrocchion lasciando invariate le parti principali si dice accrocchion non accrocchion al quarzo con cassa da 37 circa due anni fa ho cominciato grazie a un amico che mi ha chiesto un parere su alcuni orologi che saluto ciao zerbo grande amico e musicista praticamente mi sono perso in tutti i dettagli e nelle forme degli orologi che vedevo e ho deciso di comprarne uno ne ho guardati e studiati un sacco e non volendo spendere una fortuna ho deciso per questo ne presi anche uno bianco che ho regalato a un altro carissimo amico che saluto ciao luca ciao a livello puramente estetico lo trovo che sia ancora molto bello equilibrato per me puoi essere un po' semplice dopo un paio di chauffe che è citizen fake indiani che ovviamente non mostro ma la lezione l'ho imparata e ho preso questo citizen radiocontrollato dunque cassa da 38 ci ho messo questo cinturino probabilmente era appena nata la mia fissazione sulla precisione degli orologi che poi vedremo poi ti so viso date si star 7 automatic mi è piaciuto appena l'ho visto la complicazione della data nasce nel 1930 con il mimometer di girare per go nel 1957 ti so lancia la serie viso date che appunto inserisce il datario riservato fino a quel momento a roggi molto più costosi automatico con datario degli anni 60 70 con 34 mm di cassa e calibro 7842 di ti so la corona probabilmente non è originale cinturino è stato ovviamente sostituito ma ci si tosto bene anche se necessiterebbe probabilmente di revisione direi che in ottime condizioni ha soltanto usci dato un pochino il vetro si piace bravo ti so sei co cinque è un automatico prima del ti so questo e informandovi un po scoperto la linea dei sei co cinque per chi non lo sapesse vuol dire che presenta sempre cinque elementi automatico corona ore 4 il giorno e la data ore 3 il bracciale che dicono durevole e resistente all'acqua questo con quadrante bianco e cassa 37 classico 7s 26 come movimento certo è carino e carino e ora chiaramente quelli quelli quei cinque lì punti del secco 5 c'è anche da ricondurre no da da dargli il contesto giusto nel senso che stiamo parlando degli anni 60 no il bracciale durevole rispetto a un cinturino in pelle era in acciaio la resistenza all'acqua rispetto agli orologi standard normali era un minimo di impermeabilità cioè non era quelle caratteristiche tecniche che abbiamo oggi capito economico bracciale durevole in acciaio impermeabile cioè ermetico erano quelle le caratteristiche no poi sei co cinque sport questa roba 100 metri voluto al 4 r 36 che come sappiamo aggiunge lo stop dei secondi e la carica manuale ti sarai accorto che c'è qualcosa di differente bracciale ti ho portato delle modifiche come l'anello del quadrante e il vetro zaffero bombato che secondo me anche se non sembra ma cambia abbastanza curvo e soprattutto così diventa un every day watch più every day watch ecco è la prima volta che vedo uno che a questi secco 5 qua mette un vetro zaffero poi la ghiera in quella ghiera l'anello interno nel sul rio a cosa serve così per personalizzarlo come si mettono i neon sotto la macchina no ti ci hai messo l'anello sul rio evitabile sì evitabile ti piace perfetto quindi hai ragione te se ti piace ragione te il vetro zaffero è un'utilità però insomma avrei anche speso dei soldini per fare questa cosa qua mi domando quanto possa valere la pena deciditi vale la pena quindi hai vinto te poi questo secco 5 qua sport è l'esempio di come oggi i secco 5 siano questa razza qua 100 metri di impermeabilità bracciale un pochino fatto meglio quindi a seconda del contesto del tempo nel quale viene rappresentato un certo modello di orologio le caratteristiche tecniche cambiano perché cambia tutto quindi 100 metri e bracciale in acciaio pieno poi abbiamo questo secco che indosso che il prospects alpinist questo è uscito in tre varianti e questa è l'unica che ha il cinturino in pelle gli altri l'hanno in acciaio a casa 38 movimento 6r 35 che è un'ulteriore elaborazione del 4r 35 a 70 ore di riserva di carica 200 metri di zaffino antiriflesso resistente addirittura una cosa a cui non si può dire niente a secco è l'impermeabilità perché anche orologi urbani come questo no l'impermeabilità gliela mette sempre 100 200 metri non si non si scappa e non è che esiste un 3 atmosfere su altri aspetti potete dire il prezzo e la precisione il calibro tutto quello che volete ma sull'impermeabilità mi sto qua 200 metri ha bisogno di 200 metri orologio qua no e però gliela fatti 20 atmosfere quindi 200 metri e direi che con questo è adatto ogni situazione certo anche di più colpito dai riflessi del quadrante verde e dalle forme generali di questo orologio proprio sottile dopo poi ho visto che ne sei rimasto colpito anche te ne hai fatto anche una recensione certo ho trovato anche il bracciale che montano i suoi fratelli ho preso anche quello bravo molto bello come bracciale anche se c'è uno strano dettaglio la maglia centrale lucida del finale e l'alterno a questo in pelle dopo averlo portato per un annetto guadagnava un onesto quattro secondi al giorno poi eberhard aiglon 116 bravo serie ecco qua una persona che sceglie un orologio come dicevo prima fuori dal coro uno di quelli che si vede poco eberhard aiglon c'è un orologio sportivo elegante con bracciale in acciaio che potrebbe fare da contraltare per esempio il tissue gentleman o altri modelli di orologio urbano ormai mi piace il termine urbano ecco un orologio differente dal solito bravo di un marchio conosciuto e stra apprezzato eberhard anni 2010 circa monta in pratica un eta 28 24 2 questo orologio l'ho presso usato e li ho voluto poi prendere il suo bracciale originale che li dona secondo me tutt'altra immagine tenuto molto bene marcia alla perfezione e ha veramente un'ottima amplitudine e guadagna circa un secondo al giorno un secondo al giorno a te vostro canfibia dal quale mi sono fatto sostituire la ghiera dal venditore non è sicuramente un orologio pregiato ma è piuttosto robusto e a me piace gli ho montato anche questo bracciale in acciaio al posto del suo in gomma dopo aver comprato qualche strumento per fare qualche piccolo lavoro ho deciso di comprare dei libri sul funzionamento degli orologi e altri strumenti fra i quali il crono comparatore con il quale ho scoperto poi che l'alpinist pur essendo costante come marcia è abbastanza preciso aveva un'amplitudine massima di 190 210 circa allora ho deciso di fargli fare una revisione mi è stato restituito praticamente l'innovato che faceva circa 8 10 secondi al giorno però con l'aiuto del crono comparatore l'ho regolato io come del resto anche tutti gli altri e ora capisco come mai siano in un certo senso vivi gli orologi perché la marcia risente poi del tipo di utilizzo che si fa dell'orologio oltre che dal caldo al freddo il quantitativo di carica tutto questo influisce in misura maggiore su calibri meno importanti e costosi in ogni caso sono riuscito a regolare questo alpinist con un più un secondo in un mese quindi direi che è piuttosto importante come l'ho fatto io chiunque che sia un po' maniaco come me sulla precisione può con poca spesa e un po' di voglia di imparare regolare la messa in scappamento e la marcia di ogni orologio si va bene chiunque può farlo ma sto qua è un orologio nuovo cioè l'hai dovuto far revisionare per farlo per farlo andare più un secondo al mese non ha senso permettimi di dirlo cioè questo è un orologio che avrà un anno due cioè non l'idea è contemporaneo l'hai preso ora e ci ha già messo le mani dentro per farlo per metterlo in scappamento perché l'amplitudine è bassa cioè me lo devono dare appena esce dalla fabbrica come funziona cioè con l'amplitudine come deve essere è regolato come deve essere scusate se lo dico poi ognuno può ognuno può con poca spesa e se io mi compro un orologio nuovo e poi metto già in conto la spesa vabbè tanto lo porto a regolare dove siamo quello che mi aveva detto un orologio una volta che non mi ricordo bene non sono un tecnico quindi non so entrare nel nel dettaglio ma che i giapponesi utilizzano una lubrificazione particolare che secondo i dettami dell'orologeria non dovrebbe esserci non dovrebbe esserci quindi lubrificano qualcosa in più rispetto a quello che non dovrebbe essere spero di essermi spiegato perché non ci capisco una minchia però riporto quello che mi hanno detto quindi in teoria secondo questo orologio basta quando ti arriva un secco che non basta togliere quel olio in eccesso pulirlo e rimontarlo secondo lui e riporto dunque bravo magari anche meglio degli orologiai che forse anche giustamente non ci si perdono troppo comunque successivamente ho comprato poi ulteriori attrezzi e anche un movimento simile da 64 97 piuttosto semplice che ho cominciato a smontare e rimontare svariate volte adesso lo so a memoria e voglio passare a movimenti economici condattari tipo miota serie 8 oppure anche nh35 che sono un po più complessi e una volta imparata la lubrificazione farmi in autonomia le revisioni vorrei andare da un orologiai per imparare un po di cose anche sul campo comunque la cosa bella è che adesso posso dire di apprezzare di più gli orologi più importanti anche non solo per le finiture e loro bellezza ma anche dai capolavori e dalle fattezze del loro calibri che a volte sono bellissime bravo guardare ho smesso di comprare i orologi perché sto mettendo piano piano qualcosa da parte perché vorrei prendere prima o poi un acquaterra ultima referenza con cassa da 38 e per anche blu che ho provato anche in boutique e è bellissimo per me è veramente bellissimo per questo ho messo in vendita l'everard e il tisso eccoli qui anzi se ci fosse qualcuno interessato nel canale acquistarli magari lo può anche scrivere nei commenti essere curioso di sapere dove come è iniziata la tua passione per gli orologi bene il video è finito ti saluto davide grazie ancora love rock and love grande è bravo ti devo dire che insomma il tuo percorso in questo hobby ha preso la piega quella prendono pieghe differenti ha preso la piega quella del del tecnico di smontare e rimontare gli orologi non che tu sia un tecnico qualificato per nulla hobbista se robbista però ha preso quella quella strada lì nella passione e poi le cose possono prendere c'è uno può anche divertire commerciante cioè tranquillamente si appassiona gli orologi poi gli piacciono talmente tanto che diventa commerciante in modo da poterli avere smerciare ci vive ci vive però sempre un appassionato oppure la passione può prendere il lato tecnico oppure il lato storico uno che si incomincia a studiare tutte le storie sono tante spaccettature te ha scelto quella cioè scelto è nella tua indole quella del lato tecnico e benvenga complimenti per quanto riguarda la passione come mi è nata è chiaro tutto deriva da quello che ho detto prima nel momento in cui io devo comprare qualcosa ho voluto comprare non nasce dal fatto di aver avuto l'orologio se ce li ho avuti gli orologi da piccolo mi ricordo il braille il sector anche il sector no i classici orologi che erano tutti ma quando poi ho deciso di comprare un orologio di mia spontanea volontà per vedere cosa sono queste cose ho cominciato a studiare a informarmi no chiaramente che se ti informi poi ti sbagli perché compri sempre qualcosa che piti punti tipo no ti ritrovi con una cosa che pensi che cerchi anche di difenderla no ma perché questo e poi dopo capisci che no non è non vale la pena difenderla buttalo via perché mi sono appassionato ho cominciato a studiare io mi appassiono le cose ho cominciato a studiare poi dopo gli orologi tutta la storia quello che c'è dietro la tecnica e lì basta dopo c'è anche bisogno del possesso no leggi studi tante cose dopo lo vorrei portare al polso un orologio e lì comincia la collezione ma io mi appassiono tante cose a un certo punto nella vita vado quella cosa mi interessa e lì entra ma che potrebbe essere qualsiasi cosa che è più semplice anche una xbox ad esempio quando io ho avuto la xbox mi sono appassionato talmente tanto a questo cavolo di gioco che poi dopo ho pensato bene di venderlo perché altrimenti sarei rimasto attaccato a quello schermo no proprio a cercare di capire tutto il gioco come finisce doveva rifarlo di nuovo a qualsiasi cosa dalle più semplici le più complicate se uno si appassiona poi dopo cerca di approfondire prossimo video ciao davide a tutti i miei del canale sono fabio a fabio ti volevo presentare la mia collezione di orologi poi che mi ritengo un appassionato bravo comincio con un orologio che forse non ti piacerà molto cos'è questo ma va fa simile apple watch ultra non è un orologio di aliexpress ma che uso per tutto poverino prende veramente lo uso la battaglia a buttarlo via ma non penso che sia interessato a questo come orologio orologio primo che volevo farti vedere è questo bb 58 tudor bravo carino anche se 39 mm sinceramente è una misura che nonostante un polso piccolo li preferisco da 40 comunque lo uso veramente per andare ma guarda come siamo è da 39 però io li preferisco da 40 no io li voglio da 39,6 cioè è un po di tolleranza ragazzi 39 40 cosa cambia cosa cambia 39 40 41 dai su un diver poi tra l'altro è uno di quegli orologi che io non lo so quando l'ho provato che c'era il mio amico john cool straps lui mi ha detto per te piccolo sul polso infatti sono rimasto un attimino lo guardavo piccolo sul polso e in effetti non sono tutti uguali gli orologi da 39 la misura non dà sempre lo stesso risultato no infatti il black bay tudor black bay ghiera rossa quello da 41 mm forse forse sarebbe più adatto a me però 39 mi piace però te lo vuoi da 40 e se il signor puzza sotto il naso no preferisco da 40 vacanza al mare piscine e devo dire che l'orologio molto molto bello molto molto grande carica grande riserva di carica carica calibro di manifattura certificazione cos che bravo molto molto bello molto molto bello tra l'altro è uscito è recente perché l'ho preso nuovo è un 2023 bravo successivamente porto la tua attenzione questo speed master a renversa referenza 105 012 calibro 321 dove vai la faccio vedere è stata cambiata perché quella originale è introvabile e la guarda la parte visto che sta in buone condizioni top per tutto il resto l'orologio è tutto originale anche con i documenti il brecciale è stato tutto quanto restaurato i finali sono tutti quanti coevi ed è un pezzo che porto sicuramente nel cuore perché è l'orologio che è stato sulla luna insomma che ci siamo andati nel 69 molto molto bello il quadrante perfetto non venire non rendete conto quando dite molto molto bello sempre così in la ripetizione cioè l'italiana è piena di termini no piuttosto interessante o un orologio alquanto attraente mostra un sex appeal cioè inventati quello che vuoi ma sempre molto molto bello molto molto bello molto molto bello e mi cadono le balle hai capito così era uno piccolo sfogo usato veramente pochissimo dal precedente proprietario volevo successivamente farti vedere questo cosa che a te non piace anche se dici che è iconico bello 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 top tutto originale bracciale tutto originale tutto quanto originale non lucidato e sai per noi appassionati quanto è importante questo e praticamente è il calibro 11 1969 come dicevo mamma mia e niente l'ho preso ad un'asta mamma mia e anche questo un orologio che secondo me comunque nonostante le dimensioni da quel senso di potenza al polso e nonostante i suoi difetti lo considero veramente un grande orologio cavoli complimenti quanto coevo ed originale complimenti mi sarebbe piaciuto il quadrante blu ma comunque anche questo nero fa davvero la sua figura poi porto l'attenzione un altro orologio che dice con icona ma non ti piace icona questo bretlid 806 1959 si faccelo vedere con questo cinturino in alligatore troppo veloce sta fermo un momento bretling non ci sta fermo 806 a oba veramente molto raro le quotazioni di questo orologio stanno aumentando e sono contento anche perché è bello così il quadrante è vero che è affollato ma adesso ormai non facciamo più calcoli del 1959 60 e quindi ci diciamo innamoriamo della sua bellezza e della sua complessità ragazzo finora ti devo fare i miei complimenti perché hai tirato fuori dell'artiglieria veramente pesante degli orologi dell'epoca che fu veramente interessanti e particolari poi anche tutti tenuti bene complimenti sono non so cosa dirti poi successivo orologio che ti volevo far vedere dai dai spara questo rolex mariner a me piace tantissimo ce l'avevo e poi l'ho dovuto ricomprare perché mi mancava orologio del 2004 non è mai stato lucidato dal precedente proprietario veramente un orologio in condizioni incredibili cerco di prenderli ormai che stanno benissimo perché mi piacciono le cose quasi perfette quindi un quadrante stupendo e niente questo anche è veramente un orologio che ho tanto tanto nel cuore per concludere cos'è ti presento l'ultimo non una grossa collezione ma eccolo qui gonfia si gmt 2004 uno dei primi senza fuori anche questo perfetto mamma anche questo in condizioni strepitose e bello bello consiglio agli appassionati che diciamo cominciano ad acquistare orologi da stare attentissimi alle condizioni perché una volta comprato poi diciamo rimane e avere un pezzo in queste condizioni è diverso di avere un pezzo lucidato a tal punto che spariscono anche i loghi rolex ed è un orologio che amo bene spero che la mia collezione ti sia piaciuta ebbè ho portato la tua attenzione due modelli a opa col verus 678 e il monaco col calibro 11 che so che non ti fanno impazzire però diciamo sono due orologi che dovresti veramente apprezzare certo e so che li sono per te iconici ma secondo me portandoli al polso te ne innamorerai un saluto a tutto il canale ciao ciao se lo dici te me ne devo innamorare per forza lascia lascia lasciami fare il mio percorso perché poi voglio dire anche i panerai non mi piacevano invece ora mi piacciono cioè si cambia non è che però non posso cambiare perché me lo dici te capito ci arriverò da solo un giorno magari cavoli che collezione amico mio complimenti vivissimi complimenti vivissimi non so cosa dirti perché sono orologi veramente a parte costosi ma costosi perché sono c'è un calibro 11 69 anche difficile da vedere trovare poi nelle tue condizioni ecco l'unica cosa che mi lascia un po ma ora magari tu mi avrai fatto vedere solamente una parte della tua collezione presumo perché con tutta questa artiglieria che hai e con la disponibilità economica che hai perché se li hai comprati vuol dire che ce l'ha sicuramente avrai anche altri orologi un pochino meno importanti ne ho dato il 0 tutti i giorni perché il limite di questi orologi che mi hai mostrato è quello dell'utilizzo nessuno di noi li utilizzerebbe con disinvoltura nella vita quotidiana questi qua sono orologi che sono pietre migliari anche della storia dell'orologeria no poi te sei fissato che li vuoi tutti in ottime condizioni quindi li hai tutti comprati come fossero nuovi perfetti figurati se ti azzardi ad andarci al mare o da utilizzarli in qualche situazione anche normale no quelle lì sono da collezione secondo me quindi ne avrai anche altri da utilizzare così quotidianamente con disinvoltura detto questo il discorso della lucidatura non è che è così è tranchant tranchant come si dice no così netto nel senso che quando uno ti vende un orologio mai lucidato significa che un orologio del 1970 è in perfette condizioni mai lucidato vuol dire che è in perfette condizioni perché non è mai stato utilizzato è stato preservato dal passato a oggi così quindi non è che lo abbiamo lucidato per fartelo vedere bello però siccome c'è questa dicitura questa nasce poi fuori la narrazione che la lucidatura è una cosa negativa perché uno ti dice mai lucidato allora lucidare è negativo lucidare non è negativo perché una volta ogni tanto nella vita di un orologio ogni 10 20 anni va benissimo la lucidatura perché fatta da professionisti non asporta il materiale troppo materiale cioè un pochino sì per forza ma diventa una cosa professionale fatta bene quindi la lucidatura non è negativa è negativa l'accezione nel momento in cui la si vuole sostituire all'intonso capito l'orologio è in tonso perché è nato così tienetelo vendo così l'orologio era rovinatissimo io ero lucidato tanto più che poi lucidarlo malamente scompaiono anche i biselli scompaiono le satinature si cambiano cambiano forma anche le proporzioni dell'orologio a volte ho visto dei rolex explorer mi viene in mente quello 2 rolex explorer 2 senza la satinatura sulla lunetta veramente con i numerini che sono incisi neri non che quasi erano scomparsi è lì però chiunque se ne dovrebbe accorgere comunque da vado ai discorsi che sono vado per le lunghe complimenti per la collezione per gli orologi che ci hai mostrato bravo 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 ciao davide ti mostro l'orologio del giorno un bel casio da battaglia bravo ciao davide ciao dove sei o ma farà scalata ti voglio raccontare la mia raccolta di orologi questo è un lanco modello 11 deluxe un orologio degli anni 60 monton calibro 13 05 con 37 mm di cassa l'ho comprato quando avevo vent'anni con i guadagni i primi lavori che facevo è un orologio molto particolare per il suo quadrante mi è piaciuto molto all'epoca lo portavo tantissimo quindi è un orologio tutto sommato robusto adesso avrebbe bisogno però di una bella manutenzione che prima o poi gli farò bravo non ho capito se l'hai acquistato questo è un modenne è un orologio da tasca al quarzo l'ho comprato all'epoca perché mi affascinava possedere e utilizzare un orologio da tasca ho prescritto uno al quarzo molto più pratico il design di questo orologio risale al 44 quando un ingegnere delle ferrovie dello stato svizzero scusa ma è la tasca ma piccolino così come piccolissimo gli venne commissionato la progettazione di un orologio e lui penso a un orologio di facile lettura senza molti fronzoli l'unica concessione è la sfera dei secondi che ricorda la paletta rossa quella utilizzata tuttora dai capostazioni svizzeri certo certo questo è un Casio Pro Trek in titanio l'ho comprato in Giappone nel 2007 è un orologio veramente super robusto come hai visto l'uso per arrampicare quando vado in montagna mi trovo benissimo con la funzione altimetro veramente imprescindibile anche ti dà un discreto aiuto il tool watch in montagna è veramente molto utile spero che duri ancora tantissimo l'accumulatore non mi dia noia fingardo e cugino della batteria poi silenzio questo è uno mega si master è un orologio che mi sono regalato per i miei 30 anni mamma mia che finiture la cosa bella è che andando a vedere il numero di serie scoperto che è stato prodotto dal 1971 al 72 io sono nato nel 73 quindi praticamente siamo coevi coetanei l'orlogio adesso monta questo cinturino che è comunque omega non so se si vede anche il suo artiglione omega però dal sito dell'omega veniva installato all'epoca questo tipo di cinturino l'orlogio è in perfetto scusate ma le vedo solo io le finiture la satinatura radiale il bisello lucido di un orologio degli anni 70 che è perfetto le vedo solo io mamma mia sono rimasto scioccato io dato perché l'anno scorso l'ho spedito a Vienna in casa omega dove gli hanno fatto un restauro completo aveva parecchi strisci il quadrante era molto rovinato e volevo farlo ritornare all'antico splendore di 50 anni fa e come se fosse uscito dalla fabbrica è un orologio ecco ho fatto la spiegata all'inghippo no mi sembrava le preso il fondo di magazzino no l'ha mandato a bn in omega a farlo restaurare e mi pare che hanno fatto anche un bel lavoro ora questo mi viene in mente mi so viene in mente il discorso di prima della lucidatura ecco fatto questa è questa è stata fatta una sorta di lucidatura l'hanno risatinato rilucidato fatta professionalmente eccolo qua il risultato una volta nella vita non si può fare no chiaramente che se ora l'amico qual utilizza lo rovina e poi si mette a farlo a lucidarlo con il flessibile e per venderlo è logico che si vede no e poi c'è un'altra un'altra cosa che mi viene da mi sovviene come si vuol dire come direbbero a oxford mi sovviene cioè che vi sono la differenza tra alcune marchi alcuni brand ed altri ad esempio sappiamo che tisso ed emilton non restaurano gli orologi del passato siete un vintage emilton otti sui e glielo mandi loro non lo fanno ma lo fanno non hanno più pezzi di ricambio non non si cimentano non è proprio intenzione invece per esempio omega e longin lo fanno c'è anche la differenza di prezzo poi dopo quando una alla fine dice ma dove è la differenza di c'è la differenza del servizio che offerto dell'heritage che hanno del della consapevolezza del passato ok questa cassa cuscino il quadrante è stupendo un blu molto profondo gli indici applicati in rilievo sono stupendi veramente è un orologio in pieno stile anni 70 e per la serie come si pronuncia correttamente il marchio citizen ed ecco svelato l'artano era l'intelligenza artificiale in giapponese citizen ma che minchia si va bene nel senso che citizen è un termine inglese città significa cittadino quindi uno lo pronuncia citizen ok citizen va bene la e va chiusa va stretta chiusa quasi citizen ok così va detto vogliamo essere precisi ma io mi accontento di citizen non citizen parte gli scherzi questo è un orologio che ho comprato in giappone nel non mi ricordo più che in che anno però una sette otto anni fa è un citizen carica solare radi controllato in titanio ecco drive è molto comodo comodo da portare molto rifinito anche se mi piace il suo design perché ricorda un po gli orologi flighero è un orologio molto semplice essendo in titanio è molto leggero ed è facile anche da indossare è un orologio di tutti i giorni questo è lo tente che indossava mio papà è uno tente del 51 molto al calico 12 4 con 36 mm di cassa gold molto bello purtroppo credo che sia stato se di stampato c'è una piccola macchettina qui è troppo bianco si vede vicino la corona di che è dato un po di umidità forse la corona non è originale la cosa particolare di questo orologio è forse la parte posteriore il fondello riporta dei strani segni non so se si riescono a vedere credo che mio padre usasse questo orologio con un cinturino o perlon che scorreva sulla cassa col sudore e il fatto che questo cinturino molto veramente era sintetico ha rilasciato questi piccoli segni che forse dopo con una lucidatura la corrosione è andata via non capisco sembrano bombature questo invece è l'ongine di mia madre è del 56 molto al caldivo 19 4 è piccolino a 24 mm di cassa è full gold il cinturino non è originale montava un bracciale maglia milano che purtroppo era fragilissimo e non so che fine abbia fatto io l'ho sostituito con questo qui con la un ardiglione forse coevo le rifiniture come dicevo sono molto belle e particolari c'è questa lucidatura nella parte della lunetta e la carurla è satinata veramente un bello orologio c'è una patina meravigliosa mamma mia che bello anche la mia collezione starebbe bene anche se è 25 questo è un altro quarzone è un ecodrive pro master che dire è un orologio molto robusto forse un po' troppo perché è veramente pesante il bracciale e la cassa sono in acciaio c'è sovrecisione ha delle rifiniture tutto sommato per il prezzo che costa interessanti bravo il bracciale ha anche l'estensione per la muta fai la sovrecisione che devo dire è utile soprattutto d'estate quando il polso si un po' si ingrossa solo il polso però è un orologio che tuttora porto non spesso ma lo porto ancora bravo dai fai le sovrecisioni come ne dischi bravo bravo l'amico bravo questo orologio è il regalo di natale di mia moglie di qualche anno fa è un orologio bambino abbastanza famoso è un 42 mm di cassa è un po' grandino per il mio polso dal 16,5 però non mi dispiace portarlo è molto preciso per il prezzo che ha non mi aspettavo ha una meccanica precisa la cosa che non mi piace sicuramente è il cinturino così largo che non va a rastremare vorrei sostituirlo con qualcosa di non lucido magari una pelle nera sì sì cambialo perché non è bello eccolo il ProMaster Full questo è il famosissimo ProMaster è un orologio che non ha bisogno di presentazioni è secondo me un orologio dal rapporto qualità prezzo imbattibile è molto pratico facilissimo da indossare non si sente minimamente al polso almeno per quanto mi riguarda certo eccolo lì tac ancora l'anno scorso ho compiuto 50 anni e quindi mi sono regalato un Omega Seamaster Quaterra bravo 38 mm visto che quando ho compiuto 30 anni mi sono regalato casualmente un Omega Seamaster del 73 perché non continuare la tradizione è un orologio con della forte personalità è di facile vestibilità comodo non molto appariscente il quadrante blu è bellissimo cambia in base alla luce che lo colpisce il fondello vista finalmente è un fondello vista che ti permette di vedere qualcosa di bello il calibro 8800 è veramente stupendo che dire ci sono pochi difetti forse il centurino che non è facilmente regolabile se non tolendo le maglie tutte le cose belle hanno anche dei difetti purtroppo sì la raccolta per ora finisce qui spero di poter continuare ti faccio un grande saluto e continua così grazie ancora e a presto a presto a presto a presto bella collezioncina praticamente i punti forti di questa collezione sono i due Omega quello del 73 è quello recente che ti sei regalato con anche lo Zenith il longin piccolino che però complimenti è una bella collezione che dimostra come le persone abbiano piacere di spaziare in diversi campi perché te vai sia dal vintage al moderno però vintage il bello è che non è che te li sei comprati ora sono quelli che sono venuti su con te come quello Meghino là bellino quello Omega là con quelle finiture con quella satinatura mi faceva impazzire e pensare che Omega offre un servizio del genere viene voglia di comprare gli Omega vintage per poi mandaglielo e dirgli ombra lo sistemi chissà quanto costa per l'amor del cielo però l'idea di avere un orologio quasi perfetto così nuovo vintage è bello 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 poi vabbè a me piacciono anche quelli vissuti come vedete i miei longin che ho preso hanno tutti i quadrati un po' macchiati c'hanno un po' di viraggio qualche difettino qua qualche difettino là d'altronde hanno passato tutta la vita in mano alle persone sul polso delle persone un po' qua un po' là chissà dove e adesso sono giunti a me beh bravo bando alle cianci dai ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto cioè non è che possiamo stare qua a pettinare le bambole a smacchiare i giaguari io devo andare a vedere i video dei gattini su instagram che mi rilassano quindi mi lascio e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 Grazie a tutti.